Il piacere di avere qui accanto a me Silvana De Mari, autrice di tantissimi libri, ricordiamo gli ultimi, l'ultimo elfo, l'ultimo orco e gli ultimi incantesimi per la Salani editore e poi anche l'ultima profezia del mondo degli uomini edizione Fanucci che è in ristampa. È un piacere averla qui con noi oggi a HTO. Grazie, anche per me è un enorme piacere essere qui, tra l'altro questo posto è di una bellezza struggente e commovente. Allora vuol dire che dovrà scriverci un libro? Molto volentieri. Allora signora De Mari parliamo un pochino dei suoi libri, da quale vogliamo iniziare? Possiamo parlare di tutti, sono libri fantasy, questo vuol dire che parlano di Dio e della morte. La letteratura fantasy nasce con due grandi autori del secolo scorso, Tolkien e Lewis, i quali hanno verbalizzato, ci hanno messo nero su bianco, che avevano messo nelle loro opere i valori della spiritualità biblico-evangelica annientati dalle due terrificanti religioni ate del ventesimo secolo, il comunismo sovietico e il nazismo tedesco. Il comunismo sovietico e il nazismo tedesco non sono movimenti politici, sono movimenti religiosi, messianici e salvifici. Tutto viene abbattuto e allora nasce la letteratura fantasy. Che cos'è la letteratura fantastica? Ce lo spiega Kafka, un luogo dove noi teniamo i mostri. Quando qualcosa è troppo atroce per poter essere guardato in faccia perché ci brucierebbe gli occhi con l'odore, lo nascondiamo dentro l'oro e l'argento, dentro il lieto fine, così finalmente da poterle parlare. Le grandi fiabe classiche parlano in realtà della persecuzione dei bambini. Raccontano come un bambino possa essere assassinato in senso fisico e metaforico da un genitore impazzito, Biancaneve, come possa essere discriminato sui fratelli e massacrato di lavoro, Cenerentola, c'è anche la tortura, questo è un altro discorso. La bella è la bestia, un uomo consegna alla sua bambina una bestia, Raperonzolo, una bambina venduta per cibo, Ansele Gretere Pollicino, i bambini sono stati mangiati, il cannibalismo veramente gestito sul suolo europeo, nelle grandi carestie, Pelle d'asino, un re che vuole sposare sua figlia, mio Dio quanto suona male. Nella grandissima letteratura fantasy noi abbiamo messo il genocidio, noi abbiamo moltissimo fantasy e moltissimo horror perché siamo il secolo del genocidio, nel 2015 compieremo questo terrificante anniversario ma abbiamo anche messo i valori che si oppongono al genocidio. La letteratura fantasy rappresenta la realtà del XX secolo, lo scontro frontale tra culture di vita e culture di morte e le culture di vita non sono perfette, sono culture dove sicuramente ci saranno delle corruzioni, dello sfruttamento dell'uomo sull'uomo ma sono culture di vita e adesso noi abbiamo uno scontro frontale con le teocrazie e la letteratura fantasy ci racconta anche la verità che alla fine tutti saranno salvati perché le culture di vita vincono sulle culture di morte, le democrazie vincono sulla tirannia, la libertà dell'individuo vince sullo schiavismo. Le ha parlato prima, ha citato alcune fiabe, quindi le fiabe sono fantasy o c'è differenza tra la fiaba, la favola e il fantasy? Favola e fiaba che spesso usiamo come sinonimi sono completamente diversi, la favola è la volpe l'uva, un racconto scritto che nasce con un intento morale e con protagonisti animali, la volpe è l'astuzia, il leone è la forza e il lupo in genere quello fetente della comitiva. La fiaba, Biancaneve e Cenerentola nasce tra la gente anonima e inalfabeta per raccontare qualcosa al bambino perché scivoli nel buio, deve contenere le emozioni negative, le fiabe devono essere feroci. Le fiabe in un secondo tempo sono state raccontate da autori colti che possono essere però in Francia e Fratelli Grimm in Germania ma sono nate tra la gente. Dalla fusione della fiaba e del poema epico nasce il fantasy e il poema epico contiene valori maschili, contiene la realtà, il coraggio e la cavalleria mentre la fiaba contiene valori femminili, il desiderio delle donne di essere amati, la necessità dei bambini di essere amati, il dolore dei bambini non amati. Qual è la differenza? Nei suoi libri parla dell'ultimo elfo e l'ultimo orco tra elfo ed orco. L'elfo è una creatura di luce e anche un predestinato, lui già nel suo nome ha il suo destino di eroe, di battersi. L'orco invece è nato dagli stupri sui confini, non aveva nemmeno dovuto nascere, è un eroe per scelta, è un eroe fatto di ombra che battaglia dopo battaglia conquista la propria dignità, la propria identità che lui non ha e conquista di nuovo la libertà per gli uomini, quindi sono due figure, ognuna lo specchio dell'altra, diverse quindi complementari. Diverse complementari ma non ce ne sono più perché lei parla di ultimo elfo, ultimo orco? È un passaggio, un passaggio che è già accennato in Tolkien e che nei miei libri si completa, un passaggio dove le, chiamiamole razze, stiamo parlando chiaramente in senso fantasy, esistono e sono gli archetipi di Aristotele per cui sono gli elfi, l'aria, gli uomini, l'acqua, gli orchi, il fuoco, i nani, la terra. In realtà sono anche la rappresentazione della civiltà europea che nasce dalla fusione della spiritualità biblico-evangelica, gli elfi, l'aria, la filosofia greca, duttile, l'acqua, il diritto romano, i nani, la terra e il pragmatismo e la violenza e la passione dei barbari. Quindi la civiltà europea, che è una civiltà straordinaria che è nata nel Medioevo, è nata quindi in una civiltà spirituale, duttile, pragmatica e violenta. E noi siamo noi, noi siamo la nostra storia, noi siamo la nostra violenza, noi siamo la nostra barbarie, noi siamo la nostra compassione. Il mondo non ha più il vaiolo perché noi l'abbiamo vaccinato. E c'è questo continuo tentativo di rinnegare la propria storia, di rinnegare il Medioevo, comincia nell'illuminismo, va avanti nel 68. Noi siamo nati nel Medioevo, come giustamente dicono Claude Levi Strauss e Benedetto Croce. La gente non ha letto Benedetto Croce, non ha letto Claude Levi Strauss, ma ha amato il Signore degli Anelli. E gli ultimi perché è un passaggio tra un mondo magico e il mondo dove la magia non c'è più. Già rappresentato nel Signore degli Anelli, una volta che l'anello del potere è stato distrutto, passaggio che esiste nella mitologia, che esiste anche nella mente umana, fino a sei anni, se fosse no, a quattro anni crediamo a Babbo Natale e poi teoricamente non ci crediamo più. In realtà ci sono tre epoche nella vita. L'epoca in cui crediamo a Babbo Natale, l'epoca in cui non crediamo più a Babbo Natale, l'epoca in cui sappiamo che Babbo Natale esiste, siamo noi. Quindi non esistono più elfi che hanno la magia, non esistono più gli orchi, esistono le creature umane. Ed esiste quindi quest'ultima straordinaria magia, quest'ultima incredibile magia, che è il libero arbitrio, la scelta. E quale deve essere la nostra scelta? Noi dobbiamo assumerci la responsabilità di tutte le nostre scelte. Noi abbiamo questa figura straordinaria che è il cacciatore. Sto parlando di Biancaneve. La regina incarica il cacciatore di uccidere Biancaneve. Il cacciatore non va a piagnucolare a processo quelli erano i miei ordini. Il cacciatore non uccide la bambina. È vero, dopo lo ammazzano, riconosciamoci questa cosa, ma è molto più divertente morire per qualche cosa che vivere per nulla. Noi apparteniamo a un'epoca straordinaria. Siamo diventati 7 miliardi perché abbiamo abbattuto la fame, la mortalità infantile, abbiamo abbattuto le grandi epidemie e di questi 7 miliardi 6 mangiano tutti i giorni e 4,5 sanno leggere e scrivere. Dobbiamo fare l'ultimo straordinario miracolo. Fare in maniera che ogni uomo, donna, bambino e bambina sulla superficie del pianeta sia l'unico proprietario della propria vita, della propria morte e del proprio destino. Perché nessun mondo di pace potrà nascere dove le donne sono schiave, dove 200 studentesse in Nigeria sono rapite e stuprate nell'indifferenza generale, dove una donna in galera in Pakistan da 4 anni per aver detto il paternoster. Nessun mondo di pace nascerà dove le bambine possono essere infigurate a 5 anni, sposate a 8 e lapidate a 12. La libertà o tutti o nessuno. Noi dobbiamo fermare gli orchi perché possono essere fermati e noi dobbiamo salvarli perché sono fratelli. E in questo qualcuno di noi sarà ammazzato, capita di essere ammazzati, come il cacciatore di Biancaneve, Martin Luther King, Gandhi, pazienza. È molto meglio morire per qualche cosa che vivere per nulla. E siccome siamo spaventati, ricordiamo al nostro poema epico che è il fantasy. Qual è il messaggio finale del fantasy? Il messaggio finale di Sire Arduin, ma soprattutto dei due piccoletti, di Seme Frodo, il messaggio finale di Harry Potter che se la cava alla grande anche lui, il messaggio finale di Yorche, Ransky e Rosalba che sono i protagonisti della mia saga. Il messaggio è non abbiate paura perché essere degli esseri umani è straordinario ed essere vivi è straordinario. Grazie per questo stupendo messaggio che lei oggi ci sta dando. Quali sono invece gli ultimi incantesimi che poi fanno parte del suo ultimo libro, della sua ultima fatica letteraria? Gli ultimi incantesimi, l'ultima profezia del mondo degli uomini. Come ho già detto, quando gli orchi attaccano e il mondo degli uomini viene annientato, resiste solo l'armata dei mercenari, comandata da questo giovanissimo capitano che non viene sconfitto mai. Questo capitano diventerà re. Nell'ultima scena dell'ultimo orco lui va a chiedere al proprio padre, padre vi prego ditemi o chi sono? Il capitano lo sa già, il lettore no, ma sono stati lasciati dei sassolini. Lui è figlio dello stupro etnico, lui è figlio delle violenze degli orchi su sua madre. Il capitano diventa re e combatte gli orchi, ma attenzione, anche loro sono il suo popolo. Disperso durante un'inondazione senza insegne, viene catturato, non riconosciuto, venduto schiavo nel mondo degli uomini e riuscirà a diventarne prima il sacerdote, poi il cantastorie, perché attraverso le storie lui ricostruirà la loro umanità e poi l'imperatore, perché anche loro sono fratelli, anche loro devono essere salvati. Silvana, perché ha deciso di scrivere? Perché sono un medico e la narrazione è stata la prima forma di medicina della medicina scenamanica e resta l'unica forma straordinaria per modificare i neurotrasmettitori, a parte quello di dare neurolettici antidepressivi, ma la parola modifica i neurotrasmettitori delle persone. Quando noi leggiamo una storia i nostri neurotrasmettitori cambiano e quindi cambia il nostro sistema immunitario. Questa è medicina, sono un medico che scrive. Il medico è molto più pragmatico, il genere è fantasia, quindi è un genere un pochino più aleatorio. Come si combinano queste due cose? Ci sono varie sommature di medicina, la medicina ha varie sommature di colore e quindi alcune parti sono giustamente più tecniche, perché nel momento in cui ho bisogno di un'attacca, per fortuna che medici e ingegneri molto tecnici hanno fatto un'attacca, ma non dobbiamo mai ricordare che la nostra mente e il nostro corpo sono intrecciati. Quando io modifico le emozioni, modifico i neurotrasmettitori e i neurotrasmettitori vanno anche sul sistema immunitario. Un esempio più banale è l'effetto placebo. Se do a un paziente una falsa medicina dicendogli che questa cosa le farà bene, io sono sicura che le farà bene, questa falsa medicina può agire in una percentuale che va dal 40% al 90%, 90% per gli antidepressivi. I falsi antidepressivi funzionano benissimo, questo lo posso garantire per l'esperienza personale. Quindi ha ottenuto dell'attenzione, ha ottenuto delle parole. Il miracolo è basato sulle endorfine e le endorfine sono il neurotrasmettitore che si muovono quando noi raccontiamo per esempio una fiaba a un bambino, per cui diceva la buonanima del dottor Einstein, se volete dei bambini intelligenti raccontate loro delle fiabe, se volete dei bambini molto intelligenti raccontate loro molte fiabe. A chi sono dedicati i suoi libri? A chiunque sia felice di essere un essere umano, a chiunque ami la vita, a chiunque ami il mondo, a chiunque sia profondamente grato di tutto quello che è stato fatto prima di noi per lasciarci questo mondo magico. Nelle nostre case ci sono delle rotelline magiche che se girate fanno scendere acqua pulita spesso potabile, non diamo questo miracolo per scontato e che quindi siano disposti pieni di gioia di vivere a costruire un mondo ancora migliore, ma lo si costruisce nella gratitudine, nel renderci conto che è già un mondo straordinario. Qualche volta sento persone che mi raccontano, ah come fa a essere ottimista? Lei legge i giornali, leggo anche libri di storia e tra l'altro c'è un romanzo straordinario che è I promessi sposi e nei promessi sposi c'è la scena spettacolare di questa donna che ha giusto il vestitino bianco della bambina posata sul carro dei morti di peste. Beh signori, noi non abbiamo più la peste. I nostri uomini politici sono corrotti, ma non mi dite, c'era gente che nasceva nella Russia di Ivan il Terribile e se aveva una faccia che era antipatica allo zar finiva scoiato vivo. C'era gente che nasceva nella Romania di Vladimir l'imparatore e se aveva una faccia che l'antipatica l'orrei finiva impalato. Quando Gengis Khan arriva a Pechino fa 350.000 morti a rama bianca. Io non ci sputerei tanto su un mondo dove nessuna polizia segreta è venuta ad arrestarmi alle 5 del mattino o anche alle 4 per portarmi in Lager e in Gulag. Poteva andare peggio, potrà andare meglio e mi batto perché vada meglio, ma mi batto con l'infinita gratitudine di quello che ho e fate attenzione perché le cose prese a calci si perdono. Chiedetevi sarà dato, la democrazia fa schifo? Si perderà come già stato perso in pensato. Quindi questa democrazia è qualcosa di prezioso. Nella mia famiglia siamo andati a morire. I De Mari sono morti combattendo per la Repubblica Parthenopea, sono morti per N48, sono morti per Garibaldi, sono morti contro il fascismo. Ci sono le lacrime e sangue nella mia famiglia in questa scalcinata democrazia. Quindi prima di prendere a calci pensateci due dieci volte. Un'ultima cosa, siamo arrivati all'unità d'Italia con il 70% degli italiani analfabeti e avevamo l'1% di prodotto industriale dell'Inghilterra. Adesso siamo una delle dieci nazioni più industrializzate. poteva andare meglio? Beh, può darsi, poteva anche andare peggio. Quindi cominciamo a essere fieri di quello che siamo. Ricordiamoci che il fantasy ha ragione. Alla fine le cose vanno bene, come dicevano in un simpaticissimo film, ma se non stanno andando ancora bene è perché non siamo alla fine. Oggi abbiamo ricevuto una vera e propria lezione di vita. Ringraziamo la dottoressa De Mari per questa lezione, veramente. Lectio magistralis, posso definirla così, che ci ha voluto dire. Grazie a lei, grazie davvero tanto. E per i nostri amici di HTO che volessero continuare a seguire tutte le sue lezioni e anche a leggere i suoi libri che sono davvero molto interessanti, come possono fare? Ricordate la mia pagina Facebook. Ce ne sono diverse perché molte sono dei miei fan. La mia si riconosce perché c'è la mia faccia e una spiaggia di sfondo. Lì c'è tutto. Oltretutto ci sono anche i miei corsi di ottimismo. Se invece non avete Facebook www.silvanademari.com Benissimo, io ringrazio di nuovo la dottoressa De Mari e voglio ricordare di nuovo i libri, gli ultimi libri che sono stati pubblicati, quindi l'ultimo elfo, l'ultimo orco e gli ultimi incantesimi per Salani Editore, mentre l'ultima profezia del mondo degli uomini, edizione Fanucci che è in ristampa. Grazie mille. Grazie. Grazie. Grazie.